Ersato Nerdone, che però è un grande, davvero un grande, ha riprodotto su un gioco chiamato Cities Skyline, un gioco uscito davvero molto recentemente e che nonostante un bassissimo budget di produzione abbia ottenuto dei risultati strabilianti come numero di vendite E ho perso il filo di discorso, comunque sia, vi dicevo questo ragazzo ha ricreato la mappa di Los Santos di GTA V su questo gioco, un gioco gestionale dove appunto tu crei città figherrime Come vedete la mappa è realizzata nei minimi dettagli in questo gioco, davvero le grandezze e le distanze sono state rispettate, ci sono i laghi, ci sono gli alberi, ci sono tutti i palazzi, il porto è identico, davvero ha fatto un lavoro magistrale Un lavoro dopatissimo oserei dire, di sicuro si è strafatto di Sattoga prima di farlo, deve essere un mio iscritto chiaramente o comunque un consumatore abituale Quindi vi consiglio anche a voi di comprare la Sattoga per poter realizzare progetti del genere, guardate è incredibile Cioè è incredibile, viene solo che levarmi il cappello che in questo momento non sto indossando per fare le mie congratulazioni a questo tizio che si dovrebbe chiamare Rockefeller Se non sbaglio, comunque in descrizione trovate il link a questa creazione, a questa mappa Quindi se avete il gioco Cities Skyline potete scaricarla e utilizzarla appunto nella vostra modalità di gioco senza doverla rifare tutta pure voi, quindi è davvero una figata, guardate qui siamo al porto di Los Santos, è davvero bellissimo I miei complimenti, magari fatemi sapere anche nei commenti voi cosa ne pensate di questa mappa, insomma che voto gli dareste da 1 a 10 Considerate anche il 10, è DOP, che sarebbe 10 log, guardate qui la cava, è incredibile Davvero i miei complimenti, io non ce l'avrei mai fatta, soprattutto chissà quanto tempo ci ha messo a realizzarla tutta perché ci vuole una pazienza poi Oltre a tutto il lavoro diciamo di calcolo così, delle distanze e tutte queste cose c'è qua, anche proprio la pazienza per realizzarla Guardate il Monteciliad sulla sinistra Scusate se non ho messo un video ma così le immagini perché mi era più semplice anche per il fatto che io non ho il videogioco Cities Skyline Quindi non sapevo come portarvelo in un video, ho dovuto fare gli screenshot fighissimi E niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto A breve torneranno le rapine con l'ultima rapina, l'ultima banca Sto avendo un po' di difficoltà a farla perché non è facile la preparazione e poi i server stanno facendo un po' pena Laggano a bestia, veramente una cosa assurda E che dire, ci vediamo al prossimo videuzzo, dopato, malato, gtiato, figo, show Musica